Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Sono stati attimi di paura e attenzione quelli vissuti oggi pomeriggio a Pergo, frazione del comune di Cortona per un'intessicazione. Attimi di paura e possiamo dire tragedia sfiorata qui a Pergo, frazione del comune di Cortona all'interno della chiesa che vedete alle mie spalle si stava svolgendo la recita dei bambini e ad un certo punto c'è stata un'alta concentrazione di monossido di carbonio, ci sono state delle intossicazioni e tanta paura. È successo che c'è stato un accumulo di monossido di carbonio mentre si faceva la festa con i bambini per l'epifania. La cosa strana è che questo si era già verificato a novembre di due anni fa e tra l'altro all'epoca fu Don Benito, l'allora parroco, che ne ebbe le peggiori conseguenze. Da quel momento naturalmente sono stati fatti tutti i lavori richiesti per rimettere a norma l'impianto che è stato certificato. Le persone hanno perso i sensi, ve ne siete accorti così? Allora è stato prima un bambino, poi una bambina e poi una signora, però a quel punto diciamo che è venuto fuori il panico. Le persone che erano presenti qui alla chiesa erano circa 100 persone, 18 che sono state trattate, alcuni sono andati autonomamente, hanno raggiunto gli ospedali di Arezzo, Notola e La Fratta e altri due sono stati centralizzati su Grosseto, due bambini pediatrici e uno sempre dal nostro collega è stato portato a Firenze, sempre a Tarecci per eventuali camere per Bari. In tutto 11 comunque quelli ricoverati? Sì, 11 quelli ricoverati che sono portati a Arezzo e a Firenze. Ma che scenario avete trovato al vostro arrivo? Al nostro arrivo abbiamo trovato le persone che erano in stato di agitazione, che riferivano cefalei, nausee e difficoltà respiratorie. I nostri rilevatori hanno suonato subito l'alta concentrazione di CO2, erano stati attivati dalla nostra centrale, sia vigile del fuoco, proprio per una sospetta intossicazione e niente, quando siamo arrivati dopo si sono presentati anche i bambini che riferivano cefalei e nausea e difficoltà respiratorie. Un incendio nell'Aretino, poco dopo la mezzanotte invece ad Ambra, frazione del comune di Bucine, due persone sono state così trasportate in ospedale. I soccorritori del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento per un incendio che si era sviluppato in camera da letto. L'intervento tempestivo ha evitato il apeggio e circoscritto le fiamme alla camera da letto. Secondo i primi accertamenti il rogo sarebbe partito da un cortocircuito, sul posto anche i carabinieri. I due uomini presenti all'interno dell'abitazione di 42 e 81 anni sono stati portati all'ospedale della Gruccia in codice giallo. Agibile l'abitazione non lo è ovviamente la camera da letto. Un incidente invece questa mattina lungo la 78 alla Telsa di Tegoleto nel comune di Civitella in Val di Chiana. Un automobilista si trovava alla guida della sua vettura quando, forse per un colpo di sonno, ha perso il controllo finendo sulla serpaia che costeggia la strada proprio sotto il cavalcavia. La macchina si è ribaltata e la carambola ha provocato danni ingenti al mezzo, mentre il 44enne che era alla volante è stato portato in codice giallo al San Donato. Sul posto anche l'ambulanza della Croce Bianca. E voltiamo pagina per tornare a parlare dei cattivi odori segnalati ormai da tempo da alcune zone della città. Il comune di Arezzo adesso cerca nasi per annusare il cattivo odore. Sì, sono ormai quasi due anni che stiamo vivendo una situazione molto sfavorevole dal punto di vista dell'olfatto, quindi delle emissioni d'origine molto forti, insostenibili, che provano con bruciore alla gola, al naso, agli occhi, forse di stomaco eccetera, e che penetrano anche in casa e perdurano per ore. Arezzo al centro delle cronache in questi giorni per l'indagine olfattometrica commissionata dal comune per capire bene da dove provengano i cattivi odori che i cittadini di alcune frazioni lamentano da ormai quasi due anni. Arruolate nasi? È davvero così? Ma di fatto è così, perché ovviamente la rilevazione degli odori non è un qualcosa che si può fare in via strumentale, strumentale, ovvero ci sono delle strumentazioni cosiddette nasi elettronici che però non risultano essere da quello che io ne so e mi hanno informato molto affidabili. Per cui si tratta sostanzialmente di reclutare dei soggetti, delle persone, che verranno addestrati a riconoscere le varie tipologie di odori che si possano manifestare prevalentemente dalla gestione dei rifiuti urbani, quindi ovviamente verranno addestrati proprio nello specifico. E su questo soprattutto verranno poi addestrati a misurarne le intensità. I cittadini, soprattutto attraverso il comitato Stop Puzzo Arezzo, stanno continuando a segnalare i cattivi odori e anche chi non li sente. È d'accordo affinché si faccia qualcosa per rimediare? No, io sinceramente no. I tentativi vanno fatti. Se la gente ha fatto questa protesta vuol dire che qualcosa di fondo c'è. L'importante è risolvere perché veramente via via si sentono, nella zona si sentono insomma. Non possiamo stare fuori tranquillamente, non possiamo respirare l'aria di campagna. Poi una persona abita in campagna si aspetta di respirare aria buona. Le nostre vite sono cambiate totalmente e siamo veramente tanti. E abbiamo chiesto aiuto agli organi di controllo, all'amministrazione. Abbiamo parlato con tante persone ma nessuno ascolta. E ora dover ripassare magari un'altra estate per aspettare uno studio olfattometrico che secondo noi non serve proprio a nulla, è davvero disarmante. È una cosa che ci mette molto pensiero. Ripassare un'altra estate come... ma anche d'inverno perché in fondo è brutto la mattina poi anche uscire, dover stare in apnea per arrivare alla macchina e andare dove uno poi deve andare. Ecco, è molto triste. Che una parte di questi odori, dice l'assessore, provengano dall'impianto di termovalorizzazione di San Zeno, ci è ormai chiaro, ma l'indagine ci aiuterà a capire meglio che cosa fare per mitigarli. Capire anche questi odori da dove provengano, anche se è molto probabile che una parte di questi odori provengano ovviamente dal nostro impianto. Noi abbiamo ovviamente tutto l'interesse affinché si individuano le cause e si poi possano mettere in atto delle azioni per mitigare questo impatto. Perché vogliamo tutelare i nostri cittadini, non è vero che non stiamo facendo nulla, ma vogliamo tutelare anche il nostro impianto, è un ambiente pubblico, un impianto che esercita ovviamente un ruolo strategico e importante per il territorio. Quindi ovviamente ci vuole un po' di pazienza. Credo che comunque è entrato in azione, in esercizio il biodigestore anaerobico e quindi mi immagino che quest'estate e gli stessi fenomeni, impatti della scorsa estate non si manifestino comunque. L'8 gennaio si torna sui banchi di scuola dopo lo stop delle vacanze natalizie. Non sarà così però per gli studenti del professionale Marconi che dopo il crollo di settembre restano nelle sedi provvisorie. Resteranno ancora nelle sedi provvisorie gli studenti del professionale Marconi dell'Isis Valdarno a rientro a scuola dopo le vacanze natalizie. Il presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, ha così risposto alla lettera che avevano inviato le famiglie degli alunni che si dicevano preoccupati per un rientro nella sede principale dove sono stati eseguiti lavori provvisori di messa in sicurezza con reti applicate ai soffitti. Il crollo del soffitto e del contrassofitto si era verificato poche ore prima del suono della prima campanella. Sono adesso circa 500 gli studenti del professionale che potranno continuare ad utilizzare le sedi provvisorie distribuite tra San Giovanni e Montevarchi. Seppur questa decisione giunge tardivamente a soli tre giorni dal rientro in aula ci sentiamo di ringraziare il presidente Polcri per una scelta che tutela i nostri figli ma che a nostro avviso evidenzi anche la fondatezza dei nostri timori circa la sicurezza del fabbricato scrivono nella lettera i genitori. Ci aspettiamo, proseguono, che a questo punto tutti gli studenti possano concludere l'anno scolastico serenamente senza ulteriori sorprese. I genitori chiedono poi alla provincia che adesso si lavori alla riqualificazione definitiva del plesso ma anche che l'ente si attivi per trovare soluzioni alternative per permettere agli studenti di utilizzare i macchinari di laboratorio ai quali al momento è impossibile cedere in modo che la validità dell'anno scolastico non venga in nessun modo compromessa. Ci aspettiamo, concludono i genitori, che la provincia dia la possibilità a tutti gli studenti di terminare questo difficilissimo anno scolastico senza dover scegliere di sacrificare la propria sicurezza per il proprio percorso di formazione. È tornata come da tradizione una Befana per la città. L'evento organizzato dal quartiere di Porta del Foro con il patrocinio del comune di Arezzo al Palasportestra, Mario D'Agata. Siamo arrivati ormai alla 36esima edizione della Befana per la città e per il quartiere è comunque un vanto perché poter organizzare una giornata per le famiglie, per i bambini e con i bambini è sempre bello. Quindi i quartieri hanno anche un risvolto sociale molto importante e questa ne è la dimostrazione. I protagonisti sono i bambini con le loro passioni. Oggi abbiamo visto delle bellissime esibizioni di danza, di ginnastica e di sport anche, che quindi è stata una giornata dedicata a loro e alle loro famiglie e credo che sia venuta come sempre molto bene. La Befana è arrivata anche al San Donato di Arezzo carica di giocattoli per i bambini ricoverati in pediatria. Una sorpresa graditissima per i piccoli costretti a passare le festività all'interno del reparto diretto dal dottor Marco Martini. Abbiamo deciso di andare in pediatria in un momento in cui i bambini sono soli, lontano dall'ambiente familiare e dalla loro casa, ha detto il dottor Vincenzo Costanzo, direttore della cooperativa sociale Ollus, la città del sole di Arezzo. Per farli sentire come a casa e coccolarli abbiamo deciso di portar loro giocattoli in modo da distrarli e far sentire il nostro calore. E l'Epifania, come noto, tutte le feste porta via. Allora vediamo come gestire al meglio l'albero di Natale, vero? Oltre la metà dei Toscani quest'anno ha scelto un albero vero per le festività natalizie. La maggior parte di questi sono arrivati proprio dal territorio aretino, casentino e valtiberina. E adesso, con la fine delle festività natalizie, come fare? La risposta arriva da Coldiretti, che ha elaborato un vero e proprio vademecum su come gestire al meglio l'albero, che con qualche accortezza e un po' di cura potrà accompagnarci anche in futuro. Se l'abete è stato mantenuto in buone condizioni e si presenta integro, cioè senza perdita di aghi, si può conservare in vaso, sul balcone o in cortile, oppure trapiantato in giardino. Per questo serve una zona fresca, ma libera da altre piante ad alto fusto, per consentire all'abete di raggiungere anche l'altezza di 8-10 metri. Poi va subito annaffiato. Le annaffiature devono essere costanti, una volta a settimana, nel periodo invernale, due nel periodo primaverile, di più durante il periodo estivo, quando l'evaporazione è molto elevata. In alternativa, possiamo riportare l'albero al garden, al negozio o direttamente all'azienda agricola, oppure donarlo ai centri di raccolta indicati dai vivaisti. La quarta edizione della concorso Un Presepe al giorno è arrivata alla conclusione. L'iniziativa, promossa dalle ACLI di Arezzo, ha registrato la partecipazione di bambini e ragazzi adulti da ogni zona d'Italia, che hanno inviato fotografie di oltre 40 presepi realizzati tra case, scuole, parrocchie o circoli, contribuendo a veicolare tanti diversi messaggi e valori collegati alla natività. Il primo premio assoluto è aspettato a Giovanni Teberino di Campobasso per il suo presepe dal titolo Il Muro della Vita, per lo stretto collegamento con l'attualità della guerra in Terra Santa e per il messaggio di pace e speranza testimoniato dalla Sacra Famiglia che oltrepassa il muro che divide Israele e la Palestina. Le premiazioni sono in programma alle 10.30 di sabato 13 gennaio alla Scuola Media 4 novembre di Arezzo. E questo fine settimana in città invece è tornata la fiera antiquaria, tante defezioni in questa prima edizione del 2024. Ci si è messo infatti anche il maltempo e la fiera non è certo partita con il miglior piede nel nuovo anno. Intanto però ieri sulla BBC ha preso il via la seconda serie di Amanda e Alan's Italian Job, che nelle sue puntate presenterà anche le avventure aretine della coppia. La truppa e i protagonisti, spiega l'assessore Simone Chierici, hanno svolto le riprese in due occasioni durante la scorsa estate, una giugno e una settembre. In quest'ultima Amanda e Alan fanno un acquisto tra i banchi del Prato. E si è chiuso invece un anno da record per la Casa Museo Bruschi. Vediamo. Record di visitatori nel 2023 alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa San Paolo, che segna il traguardo dei 1.300 ingressi nell'anno appena trascorso, superando di oltre 1.000 presenze le entrate rispetto al 2022. Siamo orgogliosi di aver raggiunto nel 2023 il miglior risultato di sempre, afferma Luca Benvenuti, presidente della Fondazione, grazie al lavoro svolto insieme al nostro conservatore Carlo Sisi, ai sempre maggiori flussi turistici, cittadini e alle collaborazioni in tessute, con Intesa San Paolo. Stiamo già lavorando, prosegue Benvenuti insieme, per promuovere nel 2024 un calendario di iniziative di livello nazionale, a partire dalla primavera con una mostra di importanti opere del Novecento proveniente dalle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo. Tra gli eventi del 2024 anche la diciannovesima edizione della stagione concertistica internazionale in collaborazione con l'Associazione Musicisti Aretini. Per iniziare nel migliore dei modi, questo 2024 è in linea con le Gallerie d'Italia, Polo Museale d'Intesa San Paolo, in occasione del fine settimana dell'Epifania, il 7 gennaio verrà offerto l'ingresso gratuito alla collezione, come ogni prima domenica del mese. Con il Giardino della Gigante si è aperto il nuovo anno di briciole di fiabe. Va avanti a suon di spettacoli il festival a briciole di fiabe, organizzato da Nata Teatro con il sostegno del comune di Arezzo è diventato ormai un appuntamento fisso di Natale. Questo è il tredicesimo anno del nostro festival al briciole di fiabe, volevamo partecipare anche noi con i nostri spettacoli, con i temi che volevamo condividere con il pubblico, a questo momento natalizio importante che è diventato poi la città del Natale, quindi il Natale di Arezzo. Ad aprire il nuovo anno lo spettacolo Il Giardino del Gigante della compagnia Gruppo Pantarei. È la storia di un gigante, un pochino burbero, che cerca di allontanare dal suo giardino tutti gli intrusi, compresa questa bambina che cerca invece in qualche modo di farsi spazio nel suo cuore un po' ostile e in qualche modo a furia di giochi e scherzi riesce a farselo amico e a rendere anche il cuore del gigante un pochino più generoso e gentile. Al centro di questo lavoro la relazione tra le due personalità e grazie ad un linguaggio semplice, immediato e ricco di spunti comici si indaghi il tema della relazione, dell'amicizia e della necessità di aprirsi all'altro per conoscere e scoprire la bellezza della condivisione. Succede molto molto spesso che i bambini vedendo questo gigante un po' mostruoso, con questo testone, molto burbero perché il gigante proprio dice alla bambina vattene, non ti voglio, vai via, non voglio più giocare con te, non voglio parlare con te quindi è un po' naturale che prendano, che in prima battuta vadano contro il gigante ma è proprio funzione di questo spettacolo fargli capire che a volte dietro un cuore burbero, dietro una facciata astiosa c'è una persona che soffre, che magari potrebbe volere invece aprirsi all'amicizia, all'amore. Signor Gigantone, adesso il sole è ritornato Sì, è ritornato E allora va tutto bene? Sì, va tutto bene Forme oltre gli occhi è la mostra alla Casa dell'Energia, il ricordo di Anna Maria Azzurli Forme oltre i tuoi occhi Alla Casa dell'Energia di Arezzo, l'ottavo appuntamento della rassegna annuale una mostra itinerante in memoria di Anna Maria Azzurli Ad esporre in questa mostra Luca Cacioli, Giacomo, Lazzeri, Tiziana Mudu, Silvia Peruzzi, Cesare Dragoni, Caterina Montanelli e Andrea Della Bartola Direi che questa ottava edizione è veramente ricca di artisti ricca anche di modalità di espressione dell'arte che vanno dalla fotografia alla pittura e anche alla presenza di volti perché oggi questa mostra appunto è chiamata Forme e molte volte si rifà anche alla forma del volto e a quello appunto che caratterizza anche un po' la composizione dell'individuo che è una parte esterna, quindi un volto e un'anima questa mostra io ci sono anche molto legato dal punto di vista sentimentale sia appunto il ricordo di Anna Maria Azzurli sia anche un buon auspicio per Casa dell'Energia per l'inizio di un 2024 speriamo di ottima fattura coinvolta nell'iniziativa anche AIL l'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi non possiamo mancare a questo fantastico appuntamento in memoria della signora Anna Maria perché come famiglia condividiamo con Andrea Azzurli i suoi nipoti, i suoi parenti l'ebbrezza che procura poter fare qualcosa in memoria di una persona molto amata che è scomparsa purtroppo per una malattia quindi noi l'abbiamo fatto per Federico e partecipiamo volentieri a questa bellissima mostra annuale che tra l'altro ospita AILAREZO-Federico Luzio-DV quindi siamo nel cuore ad Andrea, a Luca e ai loro cari passiamo alla pagina dello sport allo stadio comunale l'Arezzo ha battuto il Rimini per 1-0 nel primo tempo i padroni di casa hanno cominciato bene la partita prendendo presso in mano il controllo delle operazioni e facciandosi anche in zona offensiva in diverse occasioni ma senza capitalizzare a dovere nell'ultima parte dell'incontro invece il cavallino è riuscito a passare in vantaggio al 72esimo grazie alla rete decisiva messa a segno da Pattarello con un colpo di testa vincente su assist di Gucci i tre punti guadagnati oggi consentono così all'Arezzo di portarsi a quota 26 e anche l'Arezzo calcio femminile è pronto a tornare in campo domani la prima di campionato di questo 2024 a Pavia anche i nuovi acquisti scenderanno in campo Ricomincia l'avventura come hai detto la nuova avventura di 2024 siamo in una buona strada abbiamo finito bene l'anno con 7 punti delle ultime 9 e si va avanti così cominciamo domenica contro Pavia Inizia con la trasferta a Pavia il 2024 per l'Arezzo calcio femminile appuntamento con la dodicesima giornata del campionato di Serie B domenica 7 gennaio alle 14.30 allo stadio Pietro Fortunati In trasferta sono più difficili le partite è un sconto diretto è una squadra che ha se non sbaglio un punto più di noi nella classifica hanno fatto queste 3-4 vittorie consecutive all'inizio dell'anno poi avevano una piccola caduta diciamo calcisticamente però hanno preso nuove giocatrici anche noi e ora è venuto l'ora di amalgamare la squadra con le nuove e ripartire da lì Il 2023 si era infatti chiuso con una maxi operazione di mercato 5 cessioni e 3 nuovi acquisti Sono molto contenta di giocare con le ragazze e di nuovo sono eccitata per giocare insieme un'altra volta Sei contenta di essere in questo nuovo gruppo? Sì, sono molto contenta anche le ragazze mi hanno accettata subito mi hanno fatto entrare in questo gruppo già bello formato e sono molto contenta Io faccio la mezzala però se il mister mi vuole adattare anche a esterno alto va benissimo mi piacciono questi due ruoli Il gruppo è fantastico e fortunatamente io conoscevo già 5-6 ragazze che avevo giocato con loro ai tempi del Florenzia Un gruppo forte, un gruppo coeso e non vedo l'ora che sia domenica per provare tutte queste sensazioni anche in partita Festività terminate anche per l'AMBC Servizi che domani giocherà a Siena Questa era l'ultima notizia per questa sera vi ringrazio per l'attenzione Arrivederci Domenica 7 gennaio alle 17.30 riprende con la trasferta in casa della capolista Stosa Virtus Siena il campionato di Serie B dell'AMBC Servizi Arezzo che per la quarta giornata del girone di ritorno giocherà sul parquet del Palacorzoni La squadra di coach evangelisti nell'ultimo turno prima della sossa era riuscita nell'impresa di battere Cecina al Palas Portestra risultato che ha permesso alla Stosa Siena di rimanere in vetta al girone in solitaria guidata in panchina da coach Maurizio Lasi la Virtus può vantare un roster molto profondo con giocatori di indubbia qualità ed esperienza l'AMBC Servizi sarà dunque chiamata ad un'altra super prestazione per poter provare a mettere i bassoni tra le ruote alla Virtus come già accaduto nella gara di andata quando il quintetto di coach evangelisti vinse a sorpresa al Palas Portestra La partita è in programma domenica 7 gennaio alle 17.30 e sarà trasmessa in diretta streaming sui profili social della società di casa